SONO MICHELE AMERIO DONNA Oggi siamo al Bunker, è un'associazione che fa vari sport, vari sport particolari, quali il wakeboard, l'estate, il paddle, yoga, vari tipi di attività, anche kickboxing e muay thai, ad esempio. Mentre io sto proponendo qua dei corsi di street soccer, in particolare sull'uno contro uno, sui ground moves, che sono movimenti per terra con il pallone, appunto per ignorare la tecnica, per disorientare l'avversario e mettere il panna. Oggi abbiamo addirittura un ospite importante che è Sufyan Bangkok, è uno dei più forti al mondo a praticare questa disciplina. È stato anche un mio eroe, si può dire, prima che cominciassi ancora poco più di tre anni fa ad allenarmi, a far diventare veramente questa la mia passione. Lui ha vinto qualsiasi torneo tra europeo e mondiale riguardo a questo sport, è veramente un freestyle internazionale, abbiamo la fortuna e l'onore di averlo qua a Torino. Ho avuto la fortuna anche di scontrarmi contro di lui, oggi ho preso il tunnel. Quasi verso la fine del match, stavamo pareggiando, però poi me l'ha fatto naturalmente. E io l'ho preso volentieri, insegna sempre qualcosa Sufyan. Ci sono tre strutture, partendo dalla principale e la più importante, l'arena Panna, che è un'arena tonda di 5 metri 6 di diametro, dove ci sono due portine, si fanno gol, ma chi fa tunnel vince immediatamente la partita. Poi abbiamo altre due strutture, sempre per migliorare la tecnica, che sono un'arena molto più piccola, dove le sponde rispondono molto velocemente e si gioca da soli per migliorare la velocità e la tecnica, il controllo sul pallone all'interno di questa arena più piccola, di 2 metri circa di diametro. E poi c'è un multirimbalzo, una stazione multirimbalzo, sia con uno scivolo, dove si lancia il pallone e sotto risputa sopra, insomma, fa una carambola del genere, e dove c'è una rete anche di fronte, quindi abbiamo due tipi diversi di utilizzo nella stessa stazione, insomma. Beh, direi che è arrivato il momento di entrare, perché Sufyan è pronto e sta per iniziarci con un suo breve show. Anzi, se il DJ me lo consentirà, andrò io a mettere un po' la musica. Ciao, ciao! Saludos a tutti i miei amici, i zeligos, i fit for fun, la poesia mi acaba, Lord, Marco, Pese, Paolo, i ogrenteros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501